La parzelletta di Geppo Siamo in un ristorante C'è un tizio è seduto al tavolo Dopo aver mangiato un bel primo Gli esavvicina il cameriere e gli fa Sì, signore cosa le porto te secondo? Fa guardi, te secondo me porti una bella porzione di funghi alla brace Allora come dice così il cameriere fa Sì, perfetto, guardi sono 15 euro Fa scusi, ma che devo pagare prima di mangiare? Quello gli fa Eh, lo so ma che i funghi in settimana come va a finire